Ciao, io sono Francesca e benvenuti ad un nuovo episodio di Acquerelisti allo sbaraglio. Nei video precedenti abbiamo visto come effettuare una stesura di colore uniforme e una stesura di colore graduata utilizzando la tecnica Wet on Dry. Se non avete ancora visto questi video e volete approfondire le tecniche di base, vi consiglio di guardarli. Se invece lo avete già fatto, bravi! Spero che vi siate esercitati un po' a casa. Dunque, abbiamo potuto vedere che l'applicazione di colore sulla carta asciutta, quindi in tutte le possibilità che ci sono della tecnica Wet on Dry, produce delle macchie di colore dei contorni netti, ben definiti, rigidi. Ma se io volessi invece ottenere dei contorni sfumati e allo stesso tempo avere controllo sulla mia stesura di colore, come fare? Bene, ve lo mostro in questo video. Facciamoli insieme! Nei video precedenti abbiamo visto come effettuare una stesura uniforme e una graduata utilizzando una delle tecniche di base dell'acquarello, ovvero la tecnica Wet on Dry. Abbiamo anche visto che l'applicazione di colore sulla carta asciutta produce una macchia di colore dei bordi netti, nitidi, come sto facendo in questo momento. A differenza delle tecniche sul bagnato, che vedremo invece nei video successivi, dedicati proprio alle tecniche sul bagnato. Questo perché se applichiamo del colore sulla carta bagnata, chiaramente il pigmento reagirà alla umidità presente anche nella carta, all'acqua presente nella carta e quindi tenderà a diffondersi e questo lo vedremo successivamente. Invece nelle tecniche sull'asciutto il pigmento non si sposta più di tanto da dove viene applicato e quindi lascia questi bordi netti, nitidi e ben definiti. Adesso vediamo come sfumare questi bordi. Può essere che ai nostri obiettivi non sia necessario avere dei bordi netti, anzi non li vogliamo e immaginiamo di volerli sfumare. Però allo stesso tempo vogliamo avere controllo sulla nostra stessura di colore e quindi vogliamo utilizzare una tecnica sull'asciutto. Vediamo come fare. Adesso vi mostrerò un mio modo di procedere con cui affronto determinati quesiti, ovvero quello di andare un po' per tentativi. Farò diversi tentativi variando, cambiando alcuni elementi e ne commenteremo poi successivamente i risultati. Dunque, primo tentativo. Applico il colore. Ok. A questo punto immaginiamo che io voglia sfumare una parte di questa macchia. Scarico il pennello nell'acqua dal colore in eccesso, però non asciugo il mio pennello. Lo lascio bello pieno d'acqua. Vedete che bello luccicante. E applico e vado a sfumare questo lato e vado a sfumare anche questo. Vedete che l'acqua contenuta nel mio pennello è tanta e quindi il pigmento tende a scendere in maniera anche abbastanza incontrollata. Quindi riscarico il pennello, questa volta lo asciugo, lo tampono un po' e cerco di togliere quest'acqua in eccesso. Ok, questo era il primo tentativo. Vediamo il secondo tentativo. Carico il pennello di colore e applico una seconda passata, una seconda stesura. Questa volta scarico sempre il mio pennello in acqua, questa volta lo asciugo completamente, quindi utilizzo anche le mani, lo asciugo ben bene. Posso utilizzare le mani oppure il fazzoletto. Lo asciugo bene e vado a sfumare. Vediamo subito che cosa succede. Il pennello, che è evidentemente troppo asciutto, sta togliendo il colore. Lasciando questo alone. Vediamo il terzo tentativo. Applico il colore. Questa volta lo scarico e lo tampono un po'. Quindi non asciutto completamente come prima. Resta umido, ma non carico d'acqua come nel primo tentativo. E vado a sfumare i bordi. Ecco qua. Quindi, analizziamo un po' i risultati. Nel primo caso, ho sfumato, ho cercato di sfumare i bordi della mia prima applicazione utilizzando un pennello carico d'acqua. L'acqua evidentemente è eccessiva. E quindi ha determinato, sì, i bordi sono adesso, non sono così netti, così nitidi, però ha anche determinato una diffusione del colore difficile da controllare. E quindi da esito comunque è un risultato che non va troppo bene. Perché il colore si è diffuso in maniera così incontrollata e quindi potrebbe anche andare a finire in una parte del nostro acquarello dove non vogliamo. Per cui qui l'acqua era eccessiva. All'opposto, nel secondo tentativo, ho utilizzato un pennello che era completamente asciutto. Per cui, essendo troppo asciutto rispetto all'umidità dell'acqua, ha sottratto, letteralmente succhiato, via il colore, lasciando questo alone. Quindi, anche qui abbiamo dei bordi che non sono netti come questi due, però sono comunque abbastanza definiti, il che non va bene. Soprattutto abbiamo questo alone dovuto al colore, a dove era arrivato precedentemente il colore, che chiaramente non va bene, non fa al caso nostro. In questo ultimo esempio tentativo, invece, ho gestito meglio l'acqua, quindi ho sfumato i bordi della mia applicazione utilizzando un pennello non carico d'acqua, come in questo caso, e neanche troppo asciutto, ma umido al punto giusto, tale da semplicemente sfumare gli angoli della mia applicazione. Quindi, cosa possiamo concludere? Che, chiaramente, se io voglio sfumare correttamente un'applicazione di colore, devo controllare l'umidità all'interno del mio pennello. Quindi non deve essere troppo carico d'acqua, ma neanche asciutto. Deve essere umido al punto giusto. Chiaramente, questo aspetto, questo tipo di esercizio, dipende anche dal grado di umidità della carta. Quindi, fin tanto che il colore è umido, io posso sfumarlo. Se il colore si asciuga, non posso più sfumarlo in questo modo. A questo punto diventa più che altro una tecnica di sottrazione del colore, il che si può fare, è un'altra tecnica che si può utilizzare, però è una cosa completamente diversa. Cioè, io su una carta asciutta, con un'applicazione di colore già asciutta, posso andare a sottrarre via del colore, ma non si tratta più di sfumare. Si tratta di sottrarre il colore già applicato, e non solo, dipende molto anche dalla carta che utilizziamo. Quindi, alcune carte lo permettono di più, permettono di sottrarre molto più colore rispetto a delle altre. Quindi, è una tecnica che dipende molto anche dalla carta che utilizziamo. Quello invece di cui sto parlando in questo video è una cosa diversa. Cioè, si tratta semplicemente di sfumare i bordi di una macchia di colore, in modo da non averli così netti e rigidi, ma semplicemente più sfumati. Come faccio? Lo ripetiamo l'ultima volta. Applico il mio colore. e subito, senza attendere che si asciughi, vado a scaricare il pennello nell'acqua, a asciugarlo un po', e poi vado a sfumare i miei bordi. in questo modo. Ecco, vedete che non ho più dei bordi rigidi e netti, ma ho dei bordi sfumati, più morbidi. Cosa succede se invece vado ad applicare il mio pennello inumidito su un bordo che già è asciutto, è troppo asciutto? Riesco comunque a togliere il colore, come potete vedere, però l'umidità contenuta nel mio pennello è maggiore rispetto a quella sulla carta e quindi mi va a creare comunque la macchia. Quindi è importante proprio far sì che corrisponda l'umidità contenuta nel pennello con quella della carta. Se il pennello è troppo umido, sebbene io lo abbia, come avete visto, asciugato, però sono andata ad applicarlo su questo lato che stava già asciugando, il pennello era più umido rispetto alla carta. Quindi cosa ha fatto? Ha creato questa macchia, questa specie di fioritura. L'umidità invece deve essere uguale. In questo modo riusciamo a sfumare i bordi. Non deve essere eccessiva, altrimenti abbiamo il risultato che abbiamo avuto qui, non deve essere troppo poca, come abbiamo visto, altrimenti abbiamo questo risultato qua, deve essere uguale. Quindi basta asciugare un po' il pennello, non troppo, lasciare che sia un po' umido per sfumare i nostri bordi. Bene, con questo video abbiamo terminato le possibilità che abbiamo con le tecniche sull'asciutto, in particolare con le tecniche wet on dry. Finiremo poi parlando della tecnica dry on dry, che è sempre sull'asciutto, e poi continueremo con le altre tecniche di base. Bene, se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un pollicione in alto. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao ciao!